Abbiamo la 57 un bel gruppo, giappo forti, giappo dure, che cosa abbiamo qui? Abbiamo il numero 57, Regi, Rammaru, Ai, Kamus e Aruka da Utanoprinsama Un secondo Signore e signori, oggi sono qui per presentarvi le stelle più brillanti del firmamento Kurosaki Rammaru, due occhi felini e rock nel sangue, saprò per rinnamorare tutte quante Mikaze Hai, il freddo calcolatore, la sua voce da angelo vi lascerà senza parole Kamius, conte di un regno lontano, col suo portamento nobile e fiero saprà affascinarvi per davvero Kotbuki Regi, sempre allegro e sorridente, saprà far ribattere il cuore a tutta la gente Siete pronti per lo spettacolo? Ed ecco a voi i Kartet Night Regi, segni di vedere Alla prossima 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 Alla prossima